In questo video vedremo come integrare il digital storytelling in classe mediante una determinata tipologia, che è quello dell'intervista. Innanzitutto vediamo cos'è il digital storytelling. Si tratta di una metodologia attiva con cui si narrano delle storie, secondo la convinzione che chi racconta conosce, impara quello che racconta, e quindi è una forma di apprendimento e formazione. Non coincide con una semplice presentazione multimediale in quanto ha un impianto naturalmente narrativo, come dice il nome. Le tipologie di digital storytelling sono molte, per esempio quella dei finali alternativi è forse fra le più note, ma anche quella delle interviste, dialoghi impossibili, che ora vedremo, è particolarmente interessante. Poi c'è quello dell'autobiografia, reportage, fino alla science fiction o addirittura la simulazione di un programma tv. I vantaggi sono quello di un apprendimento esperienziale in quanto metodologia attiva, un apprendimento che stimola la creatività perché i fatti salvi, i contenuti disciplinari, che i ragazzi devono apprendere, la forma, la storia con cui li predispongono sta alla loro creatività, è potenzialmente, non automaticamente però, multidisciplinare, e poi stimola anche competenze trasversali. Nel nostro specifico caso, per esempio, la competenza nell'uso di un sito che è utile allo scopo, nel nostro caso è tac.com. Come integrarlo in classe. Nell'esempio che ora vedremo, presupponiamo una lezione di una disciplina umanistica, pensiamo alla filosofia, alla storia, alla letteratura, ma non si escludono nemmeno anche discipline di natura scientifica, perlomeno scientifica quanto al contenuto, naturalmente non al metodo. La tipologia che vedremo è l'intervista. L'obiettivo in questo caso è esprimere narrativamente dei contenuti che in genere vengono espressi come forma di imitazione del libro di testo, quindi una replica per lo più impersonale del libro di testo. Penso a lezioni di letteratura, penso a lezioni di filosofia, nella quale i ragazzi molto spesso si ritrovano a ripetere ciò che dice il libro, che è cosa ben diversa da ripetere ciò che pensa l'autore. A volte coincidono, a volte meno. Lo strumento per l'appunto è tac.com ed è il sito nel quale ora andremo per vedere l'esperimento della intervista impossibile. Eccoci nel sito tac.com. Il caso che vedremo ora è raggiungibile all'indirizzo tac.com slash intervistapitagora. Comparirà questa intervista e la struttura del tac è molto semplice. In cima c'è un titolo, intervista impossibile naturalmente a Pitagora. Ho preso come esempio un caso reale svolto da un autore molto nobile che è Umberto Eco e infatti come copertina ho scelto proprio un'immagine di Umberto Eco nella composizione di questo tac. In questo caso ho semplicemente riportato il testo che si trova facilmente in rete di questa intervista e mi sono limitato a proporlo ai ragazzi per trarre spunto ed eventualmente stimolarli nel produrre interviste simili. Ora, è inutile dire che nelle interviste in questione si cerca con i ragazzi di muoversi su degli aspetti particolarmente significativi di un autore e in questo caso l'insegnante può dare delle indicazioni oppure lasciare la massima libertà. Se si danno delle indicazioni allora i contenuti disciplinari, vale a dire gli obiettivi in uscita sono più precisi ma la creatività è minore, nel caso diverso, cioè quello in cui si lascia massima libertà gli obiettivi sono naturalmente più vasti, meno gestibili direttamente dal docente ma il risultato a livello di gruppo classe è più interessante perché difficilmente due studenti o due gruppi centreranno l'intervista sui medesimi argomenti. Questo secondo aspetto quindi forse può essere interessante anche per aumentare la varietà dei prodotti didattici finali. In questo caso ho semplicemente riportato il testo, dal punto di vista tecnico su TAC è semplicissimo farlo si può anche scrivere in Word o in altri testi e poi fare copia e incolla qui vedete è un lungo testo, non c'è null'altro che si può scorrere, TAC funziona come una specie di blog e al termine dell'intervista ho anche inserito un riferimento di natura bibliografica e anche l'audio di questa intervista che è presente su YouTube e di conseguenza può essere integrato. Proprio su quest'ultimo aspetto è possibile anche dare delle indicazioni ai ragazzi per mettere in scena le interviste vale a dire si può anche pensare non solo di farle scrivere o trascrivere ma anche di farle rappresentare quindi ci sarebbe anche uno sforzo di natura mimetica che potrebbe aprire scenari anche particolarmente curiosi. Ripeto, tecnicamente è un lavoro molto molto semplice ma TAC si presta in maniera perfetta a questo tipo di lavoro. Qui non ci sono diversamente dal TAC subuzzati delle indicazioni stringenti proprio perché la volontà era altra, era quella di lasciare massima libertà ai ragazzi sul tema. Al termine si possono inserire dei riferimenti bibliografici naturalmente su Pitagora o su tutto ciò che si ritiene utile e il TAC potrebbe incorporarli come link. Qui non sono presenti ma con la funzione, ecco qui Button, si può integrare, ecco io ho cliccato facilmente una risorsa esterna. Cliccando su Button TAC mi chiede qual è il link a cui voglio portare i ragazzi e cliccando su Apply viene inserito. Oppure, come vedevamo anche altrove, si possono aggiungere nella parte finale, vedete, tutta un'altra serie di risorse per esempio testo, titolo, foto, video, audio e tutto il resto. Ultima riflessione su audio. È probabile che i ragazzi abbiano qualche imbarazzo nel video registrarsi rispetto ad un'intervista? È probabile che ci sia meno imbarazzo invece in una audio registrazione, una specie di podcast. In questo caso sarà sufficiente per i ragazzi registrare l'audio con un telefono o con un registratore portatile caricarlo online in un sito che ospiti gli mp3 e poi tramite audio, ecco, se io vado a cliccare il sito TAC mi chiede dov'è questo audio. Io faccio usare ai ragazzi normalmente SoundCloud ma c'è anche molto altro qui vengono proposti Spotify, Erdio e 8Tracks ma come vedete sono supportati oltre 300 repository di file audio. In questo caso il file viene collegato al TAC e integrato dentro il sito il che vuol dire che non serve scaricare l'audio l'audio partirà internamente al TAC stesso.